ciao se stai guardando questo video o hai letto o leggerai bar calling mi presento sono claudio patania presidente dell'associazione club barman dello stretto nonché proprietario dell'omonima bartender school a messina bar calling è il primo libro che ti guiderà a 360 gradi alla miscelazione dei cocktail internazionali partendo dai bicchieri passando all'attrezzatura ricette e curiosità di ogni cocktail ma non solo punto alla tua fotocamera su ogni quad e ne usciranno 90 video che ti guideranno alla miscelazione dei cocktail internazionali buona lettura e buona visione